Autismi, neurodivergenze e normotipicità sono i temi affrontati a Napoli presso l'ex manicomio cittadino Leonardo Bianchi, coinvolgendo le scuole per discutere di disabilità mentale e inclusione. Laddove nel 2001 è andato via l'ultimo paziente psichiatrico, oggi si fa il punto su percorsi di adattabilità sociale nei confronti di chi ha un differente modo di essere e percepire il mondo. Il coinvolgimento di bambini e ragazzi è fondamentale per insegnare loro l'importanza di integrare e non escludere. L'occasione per fare il punto anche sulle attuali conoscenze scientifiche sull'autismo e come poter intervenire a sostegno ad organizzare l'intera iniziativa il Dipartimento di Salute Mentale dell'ASA Napoli 1 Centro, diretto da Luisa Russo. Abbiamo spiegato che cosa questo luogo era, era molto importante per noi perché abbiamo dedicato una settimana alla difficile ma inevitabile, cioè inclusione, in un luogo che era un luogo di esclusione. In più abbiamo ritrovato delle balle di canapa che erano i tessuti con cui, era la canapa con cui venivano cucite le camicie di forza e le abbiamo sanificate e abbiamo fatto in modo tale che tutti i bambini potessero mettere quanti più colori possibili in questo monocolore che era l'idea manicomiale, sicuramente terribile, che ha portato tanto dolore. Dottoressa, l'inclusione è fondamentale ma per quanto riguarda la scienza, la medicina, il sostegno, cosa la nostra sanità può dare a chi è autistico, bambino o adulto? Sicuramente può dare e deve dare tantissimo, gli interventi, io non li chiamerei neppure più le terapie, gli interventi di oggi sono interventi molto più innovativi rispetto al passato, i risultati li vediamo, sicuramente è aumentata la diagnosi delle persone che hanno un disturbo dello spettro autistico però sono anche migliorate le condizioni di vita della maggior parte di questi soggetti. L'ASLA dei progetti appositi, l'ASLA da molti anni è il progetto PAS che è diventato percorso PAS che è il percorso di adozione scolastica e sociale delle persone autistiche e sta andando avanti e in queste giornate noi ribadiremo anche l'importanza della fase di transizione dall'adolescenza all'età adulta gli inserimenti lavorativi e abitativi che sono un'emergenza in questo momento perché dalla chiusura dei manicomi alle fasi intermedie di costruzione delle case famiglie e altro adesso si sente forte il bisogno proprio di un nuovo modo di intendere l'abitare per persone in difficoltà.